Presidente Luigi Muro, una bellissima partita, casa 9 in vantaggio 2-0, poi nella ripresa una rimonte in quella che in tanti anni di tua presidenza è la porta delle rimonte, quindi come vecchi tempi. È un peccato, un tempo per parte, quindi alla fine il risultato è anche giusto. Però noi abbiamo il secondo tempo sbagliato almeno 4, per non dire 5, occasioni chiarissime da gol. Il primo tempo avevano fino al trentesimo partita equilibrata, due occasioni per noi, una per loro, poi hanno trovato un gol e il secondo su una vera papera collettiva. Va bene, il pareggio è giusto, peccato, potevamo vincere ma potevamo anche perdere, quindi va bene così anche se con un po' di amarezza. Con mister Rubrano in telecronaca prima commentavamo che questo pareggio magari non avrebbe fatto contento nel Procida e nel Casanuovo, alla fine il pareggio è arrivato. Beh, con i tre punti il pareggio è una mezza sconfitta, però non dimentichiamo che giocava Procida e Casanuovo, due squadre di tutto rispetto, che si rispettavano e si rispettano e quindi credo che alla fine il pareggio possa anche starci.